Il modello Arezzo è il modello che viene premiato anche tra l'altro dalla nuova legge sulla defibrillazione approvata recentemente dal Parlamento, è quello di coinvolgere il singolo cittadino perché ognuno può aiutarci ad aiutare le persone. Diffondere la cultura della prevenzione e far comprendere quanto sia importante il ruolo di ognuno di noi nelle fasi di un'emergenza. Nasce da qui la giornata la Piazza della Salute che si svolgerà in Piazza Grande nel cuore della città sabato 25 settembre dalle 10.30 alle 18.00. Festeggiamo i dieci anni dall'inizio del progetto Arezzo Cuore. È un progetto che quando è iniziato c'era tanto scetticismo intorno, ha portato a mille defibrillatori inseriti in provincia a salvare moltissime vite, ha inculcato ai cittadini una cultura del fare, di non stare a guardare, di non stare a urlare e basta ma di cominciare a menare le mani. Un progetto ambizioso promosso e patrocinato dall'Asla, dal Comune e dalla provincia di Arezzo, dalla Fraternita dei Laici, dagli ordini professionali, dei medici, chirurghi e odontoiatri e dall'ordine delle professioni infermieristiche. Saremo tutti, saremo tutti gli attori, cioè tutti quelli che hanno contribuito dalla Fondazione Cesalpino al Centro Etrusco, a tutti i sistemi di volontariato, Croce Rossa, Croce Bianche, Misericordie, tutti quelli che sono stati a fianco a noi e che insieme a noi hanno condiviso questo percorso. È stato un percorso fatto di tante gioie e a volte anche di tanto dolore perché quando non recuperiamo una persona non è che siamo contenti. però ci sarà anche la parte finale dove premeremo i soccorritori che hanno salvato i cittadini quindi avremo salvato il salvatore ed sarà un momento veramente emozionante e credo che a qualcuno sarà anche difficile trattenere l'emozione. La piazza per una giornata diventerà così palcoscenico per centinaia di operatori sanitari e volontari che illustreranno i diversi scenari del soccorso d'emergenza dai malori agli infortuni fino agli incidenti. Nessuna chance di salvataggio su alcune patologie come l'arresto cardiaco ma anche come il sanguinamento critico c'è se non con l'intervento del bystander della persona che è presente sulla scena ovviamente guidata, formata dai professionisti.